Dante guarda con speranza l'altissimo monte del purgatorio che si staglia contro il sole ma coglie in Virgilio una espressione pensierosa infatti pur essendo uno spirito e per questo a differenza di Dante non proietta alcuna ombra Virgilio è turbato dalla consapevolezza di essere escluso in eterno dalla salvezza per questo china la fronte nonostante la grandezza della cultura classica la mancanza della fede cristiana impedisce ai grandi uomini dell'antichità di salire al cospetto di Dio i due poeti giungono ai piedi del monte che si presenta scosceso e inaccessibile Virgilio esita insicuro riguardo alla via da prendere ma da sinistra compare una folla di anime che avanzano lentamente come un gregge Dante propone di avvicinarsi a loro per interrogarle gli spiriti si accostano alla parete rocciosa e Virgilio chiede loro indicazioni sul punto più agevole per scalare il monte i primi del gruppo si avvicinano timidamente ma notando l'ombra proiettata dal corpo di Dante si fermano dubbiosi Dante rivela di essere ancora in vita e che il suo viaggio è dovuto alla volontà divina uno di loro biondo e bello ma ferito nel volto e nel petto si rivolge al poeta e chiede di essere riconosciuto Dante non lo identifica tra le persone che ha incontrato in vita infatti è Manfredi nipote dell'imperatrice Costanza egli chiede al poeta di riferire a sua figlia ancora viva che è riuscito a raggiungere la via della salvezza eterna affinché possa pregare per lui abbreviando i tempi della sua espiazione figlio di Federico II divenne re dell'Italia meridionale ma fu osteggiato dal papa Clemente IV e da Carlo D'Angio che lo sconfissero nel 1266 a Benevento dove morì a causa della scomunica le sue ossa furono riesumate e portate al di fuori dello stato pontificio Manfredi racconta che si pentì in fin di vita dei suoi orribili peccati e si lamenta del trattamento a lui riservato dalle autorità ecclesiastiche nel terzo canto Dante vuole ribadire la superiorità della misericordia divina rispetto alla giustizia della chiesa che spesso ricorreva alla scomunica più per motivi politici che spirituali come tutti gli scomunicati Manfredi deve sostare ai piedi del monte 30 volte il tempo della sua scomunica un periodo che può essere ridotto dalle preghiere di suffragio dei vivi che qui per quei di là molto s'avanza rispetto alla scomunica Grazie a tutti.